Buonasera, partiamo dal presupposto che Roma non è fascista, Roma è casa mia, Roma è casa mia, la borgata mia, vice, ordine e disciplina, devi fare quello che ti dico io Ma ma anche film, ma anche film, ma anche film che sono venuti da lei carabinieri un giorno sì, un giorno no Lei, lei, lei dei film, fermati subito, che li faccio vedere io i film a lei, se viene nella mia borgata, se viene nella mia borgata, ti raggiungo il microfono Nella mia, ma nella mia, queste sono minacce, queste sono, fammelo vedere a me, fammelo vedere a me, fammelo vedere, faccio di merda Non si devino, non si vede, faccio di merda Non si devino, non si vede, 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 vergognati Allora, ora, una donna, minaccia una donna, ma siamo pazzi O vi riprendete, o vi butto fuori tutte e due No, tutte e due Sì, tutte e due Ha minacciato una donna Non ha minacciato niente Non mi fa paura Ah no, le ha detto, vieni, ti faccio vedere Ma lo so, la Fagnani si difende da sola, è abituata a frequentare gli spada Figurati che gli fa brazzi Non lo fa più però, non lo fare più Non lo fare più Oh, guarda Non lo fa più Ma non lo fa più Vabbè, calmate No, c'è una qualche cosa, lì colpi stesso Vabbè, state buone Non è giusto Oh, basta, seduto